Domani un Consiglio regionale che probabilmente non riuscirà a dare le risposte sperate. Ci sono 25.000 aziende abruzzesi del vino che hanno subito 380 milioni di euro di danno. L'opposizione ha incalzato in questi mesi la maggioranza di centrodestra sul tema, ma la sensazione un po' comune è che l'epilogo sarà triste. Secondo il vicepresidente dell'Aggiunta regionale con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, però le possibilità ci sono. Quella di mettere ciò in campo interventi straordinari, e per questo c'è stato anche un incontro nei giorni scorsi con l'ABI. Noi dal primo momento stiamo seguendo con estrema attenzione, abbiamo fatto tutte le procedure, abbiamo fatto le richieste al governo, abbiamo mandato relazioni, stiamo rispondendo quella che ha seguito il DM dell'8 di ottobre, anche la richiesta con i dati puntuali allo stato di eccezionale calamità. Nel frattempo abbiamo stanziato 5 milioni di euro in due anni, che sono le prime risorse, ma siamo anche tra la prima regione che mette qualcosa di proprio per andare incontro a questo tipo di esigenze, anche se minimali, e abbiamo fatto anche l'incontro con l'Associazione Bancaria Italiana della parte riguardante la regione Abruzzo, per cercare di capire se si possono costruire strumenti che possono andare incontro alle esigenze di questa criticità che oggi hanno le aziende vitivinicole abruzzesi maggiormente. Da parte dell'ABI c'è stata disponibilità, alcune forme di moratorio sono anche possibili, solo che vanno valutate caso per caso, con tutti gli annessi e connessi di difficoltà e le difficoltà enormi che ci sono legate al sistema bancario e riferite anche a livello europeo. Il Consiglio di domani sarà anche l'occasione per fare il punto rispetto a ciò che si è fatto in agricoltura, tanto, e come uscirne da questo elemento di criticità. Chiaro che è un problema che purtroppo o per fortuna non riguarda soltanto la nostra regione, riguarda il sistema di tante regioni, 4-5 sono più o meno nelle stesse condizioni nostre e questo crea un momento di difficoltà. Noi al Governo stiamo rappresentando in più occasioni quella che è la necessità complessiva, è un momento complesso, come regione stiamo facendo il massimo nelle nostre possibilità e nelle nostre corte. In tutto questo la stessa maggioranza di centrodestra con il capogruppo di Forza Italia Mauro Febo ha spiegato che già c'è stato un intervento di sostegno del credito agricolo, ma non basta, per questo è necessario un intervento del Governo e dell'Europa. L'Europa insomma dovrebbe farsi carico di ristori, l'opposizione attacca la Giunta e per i partiti di minoranza non è più tempo di chiacchiere ma di interventi veri.